Taranto, Piazza e Balia, la magnifica fontana tristemente spenta e vedete di fronte il lungomare di Taranto. Una giornata bellissima, siamo a novembre ma sembra di stare in piena primavera, ma, dicevo, Taranto è una città bellissima ma assolutamente degradata, offesa, oltraggiata dalla incapacità dell'amministrazione Melucci. Guardate, è l'ennesima volta che ci torno, lo stato in cui si trova la fontana. Guardate, è spenta, ma non solo è spenta, guardate all'interno la schifezza, la melma, la vedete la melma verde che c'è sotto, sintomo evidente che questa non viene assolutamente pulita, oltre al fatto che, vedete, si stanno creando proprio le chiazze di questa melma. Mi sposto, è tutto live, voglio farvi vedere la melma. La guardate, vedete qui dove c'è il mio dito? La melma è tutto, vedete, la base, il fondale della fontana ha cambiato colore, è diventato verde, ma non per un gioco di luci, ma proprio perché si è creata la melma, o è diventata in buona sostanza una palude, uno stagno, quindi la potremmo chiamare stagno e balia o palude e balia. Questo lo dico all'amministrazione Melucci, al sindaco che tanto si vanta della sua efficienza, abbiamo un'amministrazione completamente assente e lo voglio dire anche al consigliere Michele Mazzariello che ha in quota a sé, al suo movimento, il presidente di Chima Servizi, che è la partecipata del comune di Taranto che si dedica, che è appunto deputata anche a questi lavori di pulizia delle fontane. Lo dico al presidente di Chima Servizi, Giuseppe Stasolla, caro presidente, guarda qui, caro Mazzariello, guarda qui. No, perché Mazzariello poi si fa i selfie la mattina, si fa i video e dice guardate la fontana è pulita, come se fosse una cosa eccezionale, dire devo avere una fontana pulita, come se fosse una cosa straordinaria, quando invece è l'ordinarietà, è il minimum per quanto riguarda la vivibilità urbana, rappresenta l'assoluta ordinarietà e invece ogni tanto viene pulita, ma tantissime altre volte viene lasciata così, abbandonata a se stessa. Poi ci sono io, il consigliere Luigi Abbat, che rompe le scatole, che li sbugiardo, li sputtano e allora immediatamente l'indomani di corsa vanno a pulire perché devono rimediare, devono tappare alla schifezza che è rimasta lì, che è stata compiuta. Vedrete che tra qualche giorno immediatamente verranno a pulire dopo che li ho bastonati, sempre dal punto di vista dialettico e politico amministrativo. Guardate qui, che immagine noi diamo ai turisti, ma anche a noi stessi cittadini? Che immagine, un'immagine di schifo, quando invece sarebbe stato bellissimo vedere questa fontana accesa, scintillante, brillante, la sera con i giochi di colori, questi colori che si sarebbero dovuti specchiare, si dovrebbero specchiare in acque pulite, con un fondale pulito. E questa sarebbe la conclusione, stiamo seminando la rinascita, questa è la rinascita di cui parla Rinaldo Melucci, questo è il risultato del il meglio viene adesso? Mi sa che questa amministrazione sta solo seminando il degrado e la melma. Guardate, guardate, questa è l'immagine dell'amministrazione Melucci. Sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, aspetto la risposta del sindaco, del consigliere Mazzariello, del presidente di chi ma servizi sta solla, di tutta l'amministrazione. Io aspetto l'assessore ai lavori pubblici Ciraci, l'assessore al marketing territoriale al turismo Fabrizio Manzulli, aspetto le vostre risposte. Per ora c'è questo schifo. Meditate cittadini, meditate su quanto fa, anzi non fa, l'amministrazione Melucci.